La situazione a Lampedusa continua a essere drammatica. Gli sbarchi di migranti si susseguono senza sosta con le autorità locali impegnate a soccorrere le barche che arrivano dalla Libia e dalla Tunisia. Durante la notte sono arrivate 192 persone, soccorse dalle motovedette della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle. Sulla prima lancia libica, partita da Zuara, cerano 88 migranti, bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e marocchini. Sulla seconda barca molto più piccola cerano 21 tunisini, sulla terza, invece, cerano 83 migranti provenienti da Egitto, Guinea, Benin e Togo, tra cui 5 bambini. Tutti i migranti sbarcati stanotte sono stati portati all'hot spot di Contrada in Briacola, che continua a lavorare in condizioni di estrema difficoltà nonostante la decisione di trasferire una parte degli ospiti. Al momento ci sono 1793 migranti a fronte di 350 posti disponibili, mentre 600 persone sono state imbarcate a bordo del pattugliatore di Ciotti e arriveranno intorno a mezzogiorno a Porto Empedocle. Intanto la prefettura di Agrigento, per alleggerire ulteriormente la pressione sull'hot spot, ha disposto il trasferimento di altri 150 migranti con la nave Foscari della Marina Militare, che verrà effettuato nel pomeriggio. Nel frattempo restano in mare le navi delle Ong, che hanno salvato centinaia di persone dai naufragi nel Mediterraneo e chiedono di poter sbarcare in un porto sicuro. In tutto hanno 1421 persone a bordo. Per la Geo Barents di Medici Senza Frontiera è scattato il nono salvataggio in poche ore, per un totale di 596 migranti sulla nave umanitaria. La Ocean Viking di S.O.S. mediterranea ha 387 persone a bordo, tra cui 150 minori, mentre in 438 aspettano di sbarcare sulla Sea-Watch 3 tra cui 128 minori. È disumano.